Eccoci tornati in studio, seconda parte di AC News, il nostro notiziario che vi permette di restare sempre aggiornati sulle vicende e sui fatti del cavallino rampante. Partiamo subito con l'attualità, partiamo con le dichiarazioni del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Domenica l'avvio dei play-off segnerà l'inizio della svolta, è quanto ha dichiarato il patron della Serie C. Sì, basta parlare del passato, lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle con grande sofferenza in tutti questi mesi, ora vorrei che si potesse cominciare a parlare di nuove cose. Tra i nostri più grandi obiettivi il pallone che torna al centro del campo da vero protagonista. Prosegue infine Ghirelli, il prossimo anno dovrà essere all'insegna della regolarità, quella che ci è mancata purtroppo quest'anno lasciando fuori le aule dei tribunali. Al centro di tutto il pallone con nuove regole e sostenibilità economica. E con la formazione laziale di Camilli che si aggiudica per questa stagione la Coppa Italia di Serie C, qualificandosi ai play-off direttamente nella sua fase nazionale. La Lega Pro ha diramato già nella giornata di ieri gli abbinamenti del primo turno degli spareggi interni al girone B. Avremo così il Monza che tornerà sul rettangolo verde già domenica, ospitando tra le mura amiche la fermana. Saranno inoltre di scena le gare tra il Sud Tirol e la San Benedettese e quella tra Ravenna e Vicenza. Come già spiegato, gli orari di questo primo turno arriveranno in extremis proprio a causa della partita di finale di Coppa Italia che si è svolta nei giorni scorsi. Torniamo a parlare anche dell'Arezzo, sono 3.500 e questo gli spettatori che ci si augura per l'esordio del Cavallino nei play-off. Questo è l'obiettivo minimo, quantomeno non sarà facile visto che la partita si giocherà di mercoledì, in un giorno lavorativo, ma resta un obiettivo possibile. Ancora da stabilire l'orario, anche se tutto lascia supporre che il fischio d'inizio sarà fissato in orario serale, quindi per le 20.30. Da definire ovviamente pure l'avversario che uscirà dalle gare del primo turno in programma domenica a Vercelli, Siena e Carrara. Quest'anno il record di affluenza allo stadio si è verificato, ricordiamo, per il derby con il Siena, quando venne indetta anche la giornata a Maranto e non erano valide le tessere di abbonamento. Sugli spalti si sono accomodati in quell'occasione 3.206 persone, unica volta in stagione in cui è stato sfondato appunto il tetto delle 3.000 presenze. La prevendita ufficiale per quanto riguarda la gara play-off comincerà soltanto nella giornata di lunedì, quando saranno appunto ufficializzati dalla Lega Pro orario e squadra da affrontare. A quel punto bisognerà stringere i tempi e soprattutto evitare di acquistare il biglietto all'ultimo momento, perché non si formino file al botteghino e rischino di saltare i primi minuti di gara. Ovviamente nei play-off non sono validi gli abbonamenti stagionali. L'Arezzo ha quindi già comunicato con largo anticipo che l'acquisto del tagliando in prevendita potrà essere effettuato tramite web presso il sito ufficiale www.spor.ticket1.it e presso le tabaccherie autorizzate. Quindi la tabaccheria del Bagnoro, la tabaccheria Biondini di Via Alfieri 49 davanti alle scuole Severi e Curina. La biglietteria centrale invece posta all'angolo tra Viale Gramsci e Viale Giotto sarà aperta martedì 14 dalle 16 alle 20 e poi mercoledì 15 dalle 10 alle 13 e dalle 15 in poi. Ricordiamo intanto le gare che ci saranno questo fine settimana per quanto riguarda il primo turno dei play-off interni ai gironi. Per il girone A avremo Siena-Novara con fischio d'inizio alle ore 15, Cararese-Propatria alle ore 16 e 30, alle ore 20 e 30 sarà invece di scena Provercelli-Alessandria. Per il girone C invece Potenza-Rende andrà in scena alle ore 16 e 30, calcio d'inizio alle 17 e 30 per la gara Virtus-Francavilla-Casertana. Infine il Monopoli che andrà a rendere visita alla Regina, la partita inizierà alle ore 19 e 30. Ricordiamo inoltre che nel girone A i play-out avversi ci saranno tra Lucchese e Cuneo con l'andata al Porta Elisa e la gara di ritorno a Fratelli Paschiero. Termina qui l'edizione odierna di AC News. Io vi ricordo come sempre l'appuntamento questa sera ore 19 e 50 con Amaranto World, il programma condotto dal direttore di Arezzo Channel Gianni Brunacci. Vi ringrazio per essere stati con noi e buon fine settimana a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.